Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePa17 e oggi vi do il benvenuto su una nuovissima serie che vi porterò sul canale Ragazzi benvenuti nel videogame di Lego Ninjago The Movie L'ho scoperto più che altro per caso questo nuovissimo titolo Sapevo che usciva il film che devo ancora vedere ma non sapevo che in concomitanza con il film Facessero uscire anche il videogame E appena ho scoperto questa cosa mi sono detto questo lo devo assolutamente portare sul canale Perché a chi piacciono i giochi Lego sicuramente potrà piacere una serie su questo titolo Direi di non perdere altro tempo e di iniziare una nuova avventura tutti quanti insieme Ok perfetto eccoci qua Ha questa grafica un po' particolare non vi preoccupate non è il video È proprio il videogame che è stato creato in questo modo Ok Ne stanno succedendo di tutti i colori al tempio Eccolo qua Ma è un pollo Sì sì il regno del maestro pollo deve finire Lloyd Possiamo sconfiggerlo solo se stiamo uniti Con le ciambelle Mamma mia è un avversario temibile Dojo del maestro Prologo Ok sembrano i Power Rangers Ok the master chicken Va bene Probabilmente ci insegnerà alcune mosse Nuovo obiettivo completa l'addestramento del maestro V Ok Sì dobbiamo completare l'addestramento Sconfiggendo queste statue Ok un nuovo avversario Perfeziona l'arte del cinghiale irruento Ok qui praticamente ci insegnano Quindi slide E poi X Ok a posto Prossima tecnica Volante addirittura L'arte della farfalla svolazzante Ok A e poi X Facilissimo Mamma mia Possiamo compiere più attacchi consecutivi Uno dietro l'altro Guardate Tac 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 Sono fortissimo L'arte del falco impicchiata Beh qui saltiamo Saltiamo Ah doppio salto E poi X Ho distrutto mezzo tempio Mamma mia Prossima tecnica L'arte dell'ape pungente Ah ok Prossimo Più attacchi consecutivi con la X Adios Sì qui ci hanno praticamente insegnato le varie tecniche È una specie di tutorial Muro Ningeniosità Che caspita è? Durante il tuo nobile viaggio sarai premiato con un token di ningeniosità Per la tua saggezza e per i tuoi atti coraggiosi Ok Seleziona un simbolo sulle pergamene per evocare un potere della ningeniosità Ogni potere della ningeniosità conferisce una nuova abilità Ok E selezioniamo quello Drago volante Sblocca il potente attacco del drago volante Lancia i nemici in aria e poi scatena una raffica ad attacchi Nuova abilità ningeniosità disponibili Puoi tornare ad acquistare queste nuove abilità quando hai raccolto altri token Ningeniosità Ok Ah non ne ho più quindi non posso sbloccarne altri E questo? L'arte del drago volante Voglio mettere tutto insieme Ah ok è questo qua Prima tasto B e poi la X Perfetto Arte Perfezionata Tocca il pollo adesso Ok dobbiamo sconfiggerli Con le varie tecniche che abbiamo imparato Perfetto Abbattuti Avanti con la prossima ondata Usiamo le varie tecniche che ci hanno insegnato Se il drago volante ci mette mezz'ora Vai vai Ok Abbattuti anche questi Ondata 3 Se un nemico blocca i tuoi attacchi Prova a variarli Ok quindi Dobbiamo anche cambiarli Non tanto Il maestro guarda come ci dà una mano Abbattuto Adesso direi che tocca al maestro pollo No Ah un'altra ondata Ah ma li facciamo fuori anche questi qua come niente Dai con la farfalla Ciao ciao Abbattuti tutti quanti Pollo maestro Ok tocca al maestro Attenzione Dobbiamo attaccarlo Quando è in queste condizioni qua Ok come diceva prima Dobbiamo variare anche gli attacchi Dai dai che lo mandiamo KO Dai 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 che lo sconfiggiamo Perfetto Abbattuto Easy easy Grandissimi nostri due eroi Abbiamo completato forse il primo livello della storia Si Primo livello completato Ok possiamo proseguire Questo qui mi sa che L'hanno Questa scena filmata l'hanno recuperata dal film Cosa cacchio sta succedendo Wow Ma che cos'è Ragazzi Si si sono come i Power Rangers Eccoli Che spettacolo I Power Rangers Uguali 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 Attacco di Ninjago City Capitolo 1 Uh usiamo subito il Drago Che spettacolo Dobbiamo abbattere quelli laverdi Facciamo un po' di casino va Attenzione al treno Cosa fai? Selfie? Dai facciamo un po' di casino Così si che si ragiona Mamma mia Ne mancano sei Ne mancano quattro Tre Ne manca Ah ne mancano ancora due Eccoli Perfetto Andiamo a battere questi qua Dai 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 Tiriamoli giù Attenzione a non farci colpire Eh Eh si in effetti Ah ma arrivano Eccoli Dove sono i nostri Mac Kai Le hai richiamati tu giusto? È possibile che abbia segnato il punto sbagliato sulla mappa Ah ecco Ma appena un po' ho sbagliato Non più di qualche millimetro sullo schermo Che spettacolo Possiamo raggiungerli a piedi Ci metteremo un minuto al massimo Sì va bene Capitolo 2 Ninja radunatevi Allora Dobbiamo raggiungere i Mac Arrivo arrivo Vamonos Tanto facciamo che spaccar tutto Che non si sa mai Ok Siamo arrivati dall'altra parte Dei nemici Eh si Eccoli Mi manca uno Dov'è? Ah era là Ah grandioso Vedersela con qualcosa Sarebbe molto più facile Con i nostri Mac Hai paura di spaccare troppo Eh Grazie Ehi Dovremmo costruire qualcosa Sì Tipo una mia statua Una cosa Vai 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 Una bella fionda Sì Forse sarebbe meglio Dai che lo abbattiamo Pronti Fuoco Preso Visto più semplice Che fare una torta Cosa sta succedendo? È un attimo in difficoltà O no no? Eccoli là No vabbè ma sono Spettacolari ragazzi Sono veramente Spettacolari Go go Power Rangers Qui c'è qualcosa No Ok ci pigliamo tutte le monetine Qui costruiamo Un qualcosa Perfetto Bravissimo Vai vai col martello Boom Avete visto che Attenzione Altri nemici Dai venite Mi stiamo aspettando Che Che mazzata Ciao ciao Perfetto Attenzione Ah aspettate Vai Ok sconfitto E sconfitto E questo qua Che cacchio è Vai vai Doviamo distruggere Questi droni Ottimo E ne arrivano altri Tanto se Giocherellano Lì sopra Scusate ragazzi Solo un secondo Sì lo sto portando In cima al palazzo Però Lo stavo portando In cima al palazzo Non mi devi Attaccare In quel modo Quanti ne mancano Mamma mia Quante sberle Cioè andiamo in cima Al palazzo Va Ci mancano due Non ci sto capendo Più niente Comunque Troppo veloce Ok Abbattuti Signo sì Dai 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 Troppo deboli Ragazzi Troppo deboli Cioè costruiamo Un bel trampolino Anzi Direttamente Un razzo E Tocca a lui Prima o poi Poi imparerò i nomi Boom Boom Allora Come facciamo a salire Corsa su parete Verticale Ah Utilizzando Soltanto la Aspettate Ok Ah ok Basta premere una volta A e basta Attenzione Dai che ce l'abbiamo Quasi fatta Sì E' esploso pure un ponte Allora abbiamo beccato il checkpoint Abbiamo ottenuto un token Un token Un token anzi E ci prendiamo Gettoni aumentati Ok Qui questa porta si può Ah ci serve il fuoco No Qui c'è qualcos'altro Guarda qua dietro Ah lì c'è forse un livello bonus Però c'è qualcosa qua dietro Mi sa No non c'è niente Un muro invisibile Qui c'è qualcosa da costruire Una bella radio Andiamo Andiamo Ok siamo arrivati Allora sconfiggiamo I nostri Avversari Debolucci come avversari Comunque Vai giù Ne mancano tre Cosa vuol fare E questo qua Quella Ok dobbiamo abbattere quello Attenzione Attenzione Dai 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 Bye bye Ok abbattuto In 4 e 4 8 Qui però c'era C'era qualcosa Lì sopra Aspettate un attimo Strano Pensavo ci fosse qualcosa Lì dietro Da questa parte di qua Cosa caspita c'è Ah ok Un cubetto Allora di lì non si può passare Allora di lì non si può passare Qua Ah dobbiamo riparare Quello Wow Una vera fortuna Che a quell'interruttore Mancassero due led Proprio Della stessa forma Delle due cavali Ci abbiamo fatto Aspettate che vado su Allora Dobbiamo riparare questo Ok così dovrebbe funzionare Perfetto Quanti caspita di nemici ci sono Ce ne sono fin troppi Ah altri nemici da uccidere Però preferisco lui con le spade Perché è più veloce Sì ma guardate quante monetine ci sono Ma non è normale una roba del genere Dai Oi Ci sono troppe monetine Cos'è che vuoi fare te? Questo qua cosa Caspita sta facendo lì Scusami eh È che non mi sembra il caso No non possiamo ancora andare di lì Dobbiamo passare per forza di qua Uh Guarda cosa c'era lì Vai 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 No Dobbiamo subito attaccarci là E questo cos'è Vai Dobbiamo farlo saltare Tieni premuto B Ah ok Ottimo Dobbiamo costruire qualcosa lì Perfetto Quello è carico Adesso carichiamo anche quello A destra Perfetto Beccatevi sta scossa Oh Quello l'abbiamo distrutto E Questi qua Grazie ragazzi però avete distrutto anche il ponte Mi so che dobbiamo trovare un'altra strada Eh lo so Un altro token E Fai per due va Ma è questo qua? Ah era uno che si nascondeva Arrivano anche con il paracadute Qui c'è qualcosa da distruggere Vai sopra Andiamo su Altro checkpoint Oh oh Cosa caspita sta succedendo? Penso che si sia lasciato un po' trasportare Mi piacerebbe farmi trasportare Dal mio back Ma non fosse Perché lo hai parcheggiato Nell'edificio sembra sul punto di crollare Ma forse lo possiamo attraversare Mamma mia che strage Qui che cacchio ci serve? Ah no Non ci serve lui Vai giù Attenzione a quelle casse Però aspettate Diamo un'occhiata qua in giro Eh ma di lì non si può andare Di qui non c'è niente da fare No l'unica strada percorribile è quella lì Ok costruiamo una scaletta O un trampolino Qualcosa Allora tu vai lì E tu Fallo andare su C'è qualcosa che non va Ah ecco cosa dobbiamo mettere Ok Spara Perfetto Fantastico Abbiamo fatto saltare Mezzo edificio C'era pure uno in bagno Questo ci servirà Abbiamo sbloccato Kai Quello classico Ottimo lavoro Eh guardate quanti personaggi E adesso Ah dobbiamo andare di qua Nooo ero quasi arrivato Vabbè rifacciamo Vai Via questi C'è uno che fa il sonnellino Scendiamo Questo è mio E abbiamo sbloccato anche una nuova pergamena antica Maestro della scoperta Allora qui spegniamo tutto Arrivo arrivo Ma c'è un maiale dentro Perfetto Perfetto Così possiamo passare Un nuovo token Dammi questo va Ok abbiamo sbloccato Ok abbiamo sbloccato nuove abilità Possiamo uscire Qui dietro non c'è niente No non c'è niente Però questo me lo prendo Dai andiamo a raggiungere i mech Mi sa che dobbiamo Fare un salto dall'altra parte Ci stanno aspettando Ragazzi arriviamo Oh che colpo Ok andati Questo non possiamo distruggerlo Il cuore me lo prendo Diciamo che comunque Si parte subito bene va Ne mancano sei Cinque Quattro Dai ragazzi su Non nascondetevi Eccoli Vai giù Dai Dai che va giù Attenzione 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 Anche quello E questo che cacchio è Oh mamma mia Ci mancava solo quello Vuole mangiarsi il pesce Vai 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 Dobbiamo costruire qualcosa Ok così possiamo salire di lì Via anche questo Via anche questo Cos'è? Una canna da pesca Attenzione È una canna da pesca Dai vieni 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 di qua Vieni Bravissimo Ok i tuoi pezzi mi serviranno per Salire lì sopra Uno Ah qui mi serve lui Bravo Oh andiamo a prenderci Mac Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Unitevi alla festa ragazzi Cosa state aspettando? Mia Dove sei? C'è un piccione Si ribaltano Concordo Ehi Dove siete stati voi due? Garbador Riturato Ci ha dato un bel po' di filo da torcere Ma ora l'abbiamo messo a manco Divertiteli ragazzi Ma fate i bravi Perché sto orlando? Sto usando una radio Attacca un po' di musica va Dai che ce l'abbiamo quasi fatta Quella Ok Allora Questo è il capitolo 3 Carmadon in città Direi ragazzi che però ci possiamo fermare qua Dato che penso che questo primo episodio di Lego Ninjago sia durato abbastanza Affronteremo Carmadon nel prossimo episodio Come sempre ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate, condividete, iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui su Lego Ninjago The Movie Alla prossima ragazzi E ci vediamo in un prossimo episodio